Ciao da Avsim, bentornati in un nuovo episodio di Calcio con la M, il fantastico mondo di Max Allegri che allena la Juventus, il fantastico mondo in cui Max Allegri allena la Juventus. Dunque, Juventus-Lecce 2-1, abbiamo visto qualcosa di meglio, dopo vediamo che le grafiche ci confermano le sensazioni che abbiamo avuto ma le circoscrivono, ma questo qualcosa di meglio appunto è limitato ad una parte, direi anche abbondante, ma comunque una parte neanche alla totalità del primo tempo. Poi nel secondo tempo si è vista più o meno la solita Juve rinunciataria che soffre, che lascia il pallone agli avversari, ma anche in quella prima buona parte si è vista una Juve caotica, tendenzialmente disorganizzata, che non ha degli smarcamenti codificati, non ha degli schemi codificati, non ci sono triangolazioni, non c'è una fluidità se non a tratti, si attacca un po' in maniera caotica, buttando i palloni in avanti e buttando i palloni in area, non c'è riaggressione, anzi ci si accartoccia all'indietro, correndo a perdifiato per andare ad occupare l'area di rigore, appena c'è una costruzione, una transizione degli avversari, il tutto anche con un tasso tecnico, soprattutto in alcuni giocatori direi rivedibile. Allegri dopo la partita ha detto, per l'ennesima volta dobbiamo migliorare nel finalizzare, e non si sa come mai, anzi forse si sa come mai, si sta lavorando, o si dovrebbe lavorare da due anni e non si riesce a migliorare questa cosa, di andare a segnare, quindi di essere un po' più efficaci, un po' più cinici e quindi la prossima volta avremo l'occasione ancora di dire bisogna migliorare, perché evidentemente l'obiettivo è dire bisogna migliorare e non effettivamente migliorare. Tra l'altro vediamo giocatori involuti, alcuni che magari hanno offerto una prestazione un po' più convincente ieri, però si trattava appunto del Lecce con tutto il rispetto e alla fine la Juve ha giocato più o meno alla pari, se non peggio, perché il Lecce invece è stato molto bravo, sono stati molto bravi i ragazzi di Baroni nella riaggressione, nell'aggressività in generale, poi non sempre la riescono a recuperare la palla e diciamo tra l'altro che senza Di Maria tra le linee, con la sua classe, la sua qualità, il livello superiore rispetto a tutti gli altri giocatori in campo, la Juventus avrebbe fatto grossa fatica anche in quelle poche transizioni che hanno funzionato. Però partendo con le grafiche vediamo che comunque, e poi dobbiamo parlare anche delle occasioni da gol, delle occasioni anche di quelle del Lecce che non sono conteggiate, in particolare quella con la scivolata di Bonucci, perché lì praticamente non c'è stato un tiro, ma parliamo davvero di occasione clamorosa lì nel secondo tempo, vediamo appunto dalle grafiche che c'è stato qualcosa di meglio a livello di disposizioni in campo e questo potrebbe quantomeno far sperare in una qualche base, ma proprio dettagli, proprio un minimo di qualcosa da cui ripartire, ma la prossima stagione, ma con un altro allenatore, ed anzi ti fa pure rabbia perché dici perché questa volta ho visto qualcosina, mentre altre volte, tante altre volte praticamente nulla, allora lo vedi che i giocatori non sarebbero scarsi, ma sono semplicemente allenati un po' male. Se questo video vi piace mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e continuate a seguirmi quindi anche con l'abbonamento al canale a partire da solo i 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi su Discord, dove c'è tanto dibattito, link in descrizione e anche nel live. Ci sarà infatti il dibattito settimanale oggi per parlare però della nuova dirigenza, veniamo allora alle grafiche di Wisecout. Wisecout ci mostra questa disposizione media dei giocatori in campo. A destra naturalmente vediamo il Lecce, un Lecce molto ben disposto in campo, è chiaramente un assetto che prevede due difensori centrali con un agglomerato diciamo di sostanzialmente sei centrocampisti, chi più davanti, chi più indietro, ma con una bella linea di centrocampo molto densa, molto folta e poi due giocatori più avanzati. Forse un difetto nello schieramento di Lecce che potremmo individuare al netto delle sostituzioni che poi hanno compensato questa cosa, è un po' un vuoto nella zona avanzata sulla destra. Ma vediamo Lecce anche abbastanza corto, posizionato in campo con un baricentro piuttosto alto, dove invece c'è una Juve con un baricentro decisamente più basso e anche una Juve più lunga, tenendo conto anche di Gatti che è entrato nel finale e che abbassa un pochino, che aumenta un pochino la lunghezza complessiva, ma non di tanto, perché comunque la posizione media di Gatti, numero 15, non è tanto più arretrata rispetto a quella di Bonucci. Ora, che cosa vediamo? Dicevo qualcosa di meglio dal punto di vista delle posizioni in campo. Si intravede una linea difensiva prevalentemente a tre, ma soprattutto si intravede un centrocampo. Cioè, incredibilmente, abbiamo quasi un rombo perfetto, dove però il vertice alto è Vlaovic e non Di Maria. Però, non ci lamentiamo troppo perché, quantomeno, abbiamo un Vlaovic, diciamo, in attacco, con un Di Maria, diciamo, in attacco, quindi addirittura un paio di giocatori a fare quasi una coppia d'attacco. Cioè, qui c'è da stropicciarsi gli occhi. Da notare, ovviamente, che De Sciglio, che è stato molto sfortunato, ha giocato poco, è stato rimpiazzato da Quadrado, che nella totalità della partita si è sistemato però decisamente più dietro. Immaginiamo che De Sciglio, se avesse terminato la partita, alla fine si sarebbe trovato come posizione media uguale a Quadrado, perché l'abbassamento di Quadrado è frutto di quello che è successo nel secondo tempo. E lo andiamo a vedere subito con i dati complessivi. Partiamo con gli XG. La Juve ha accumulato 1,99, il Lecce 1,61, di cui 0,76 su calcio di rigore. Quindi, escludendo il rigore che vediamo subito come balzo in alto sull'1-0 della Juve, che è in realtà il primo sussulto del Lecce, il Lecce, diciamo che come XG, ha fatto sicuramente meno di 1, più o meno 0,9. Ma questo non vuol dire che il Lecce non abbia meritato il pareggio, perché non è conteggiato negli XG appunto l'occasione dove Bonucci ha fatto la scivolata e lì non avviene il tiro e quindi non viene conteggiato. Vediamo che però c'è stato un su e giù, c'è stata un'altalena di XG nel corso della partita senza un netto dominio da parte della Juve, senza, se non quella breve fase, diciamo un quarto d'ora nel secondo tempo, in cui si è potuto dire che la Juve avrebbe meritato di stare davanti. Naturalmente in questo c'è anche il palo di Danilo, che credo valga però 0,11, perché è arrivato nel secondo tempo. Dopo vediamo meglio tutte quante le conclusioni. Andando oltre, vediamo invece il possesso palla, che è stato totalmente altalenante. e questo ci dà anche la misura della partita, come vedremo dalle altre grafiche. In particolare nel secondo tempo è stato il Lecce a salire parecchio. La partita termina 51 a 49, con 54 a 46 nel primo tempo, e si inverte il possesso palla nel secondo tempo, quindi la Juve nel secondo tempo ha lasciato il possesso al Lecce. Precisione dei passaggi più o meno simile da parte delle due squadre, con un miglioramento di entrambe nel secondo tempo, ma è anche un miglioramento che le pone allo stesso livello. Quindi c'è stato un livellamento e una Juve che ha mantenuto una certa precisione dei passaggi nel corso della partita, e il Lecce è stato più altalenante, ma è una Juve che non ha spiccato. Spicca invece il Lecce per distribuzione dei lanci lunghi, ma cerca da aspettarselo, perché sono loro la squadra che deve salvarsi, quindi almeno su questo, almeno questa volta, la Juve è andata un po' meglio. Nei duelli, anche qui, c'è stato un su e giù, e la cosa significativa è che quando la Juve ha rinunciato al possesso ha vinto più duelli in percentuale, cioè nella parte finale della partita, perché appunto ha dovuto buttarla sulla fisicità, anche se pure all'inizio c'era questo dato in alto, mentre andiamo a vedere le azioni offensive per minuto, questa è praticamente la fotografia chiave della partita. Finisce la Juve con poco meno del Lecce, 0,41 a 0,46, ma guardate il crollo verticale che si ha dopo l'1 a 0, e tra il primo e il secondo gol della Juve, con nel mezzo tra l'altro il gol annullato a Miretti, un crollo proprio verticale, fino poi ad un innalzamento finale, dove c'è stato un 5 minuti scarsi di arrembaggio per provare a chiuderla, ma fondamentalmente c'è stata tutta una sofferenza che è tra l'altro segnalata dall'innalzamento progressivo delle azioni offensive per minuto da parte del Lecce. Sorvoliamo sui recuperi palla, che sono stati bassi per entrambe le squadre in tutta quanta la partita, la lunghezza media tra i reparti, segnala una Juve con meno spazio tra i reparti, quindi ecco disposta un po' meglio in campo, ma direi pure tanto meglio, rispetto al, perché comunque non è sufficiente, rispetto alle precedenti partite, è interessante cercare di capire perché c'è la mano di Allegri, c'è la mano di Bianco, c'è la mano dei giocatori, chi è il responsabile di ciò? Bisognerebbe chiederselo perché è facile dire Allegri è l'allenatore, quindi è merito suo, anche se poi ogni volta che la Juve va male, gioca male, si dice che non è colpa di Allegri, perché è colpa dei giocatori, quindi cerchiamo di capire, magari le prossime partite saranno illuminanti da questo punto di vista, se c'è stato un lavoro tattico più specifico oppure è stato anche casuale. Infine l'intensità del pressing è stata bassa da parte di entrambe le squadre, ovviamente la cosa è meno accettabile guardando al fatto che si tratta della Juventus, soprattutto nel cuore del primo tempo entrambe le squadre hanno totalmente rinunciato all'aggressività e ovviamente di questo ha fatto le spese, la qualità della partita. Non ci sono dati interessanti o rilevanti sui passaggi, però siccome ve li ho mostrati nei precedenti episodi di Calcio con la M, dice magari adesso ci sono dati positivi e li occulti, allora andiamoli a vedere. Ecco, la Juve ha fatto una novantina di passaggi in più del Lecce, capirai, 85% 84% di precisione, insomma siamo lì, passaggi in avanti tra l'altro si vede qui chiaramente che la Juve ha fatto in percentuale meno passaggi in avanti perché con 90 passaggi in più ne ha fatti solo 8 in più in avanti rispetto al Lecce, quindi è il Lecce che ha passato più palloni in avanti tra l'altro con una precisione ben più alta. Per quanto riguarda i retropassaggi invece il Lecce ne ha fatti chiaramente di più in percentuale rispetto alla Juventus, i passaggi laterali direi un maggior numero in percentuale da parte della Juve anche con una precisione più alta però è chiaramente se il Lecce ha fatto più passaggi in avanti è normale che ne ha fatti anche di meno che possono essere considerati come passaggi laterali che quindi non sono progressivi anzi poi non sono progressivi in realtà i passaggi progressivi sono quelli in avanti che coprono una certa distanza però anche qui il Lecce ne ha fatti di più con maggiore precisione. Ora per fare più passaggi progressivi con maggiore precisione non serve solo la tecnica servono soprattutto i posizionamenti e se ci sono dei buoni posizionamenti da parte della squadra che porta palla la squadra che non è in possesso non è posizionata bene per intercettare per spezzare la manovra per prevenire e quindi vediamo anche qui da questi numeri emergono chiaramente dei difetti tattici. Lanci lunghi siamo alla pari e quindi la percentuale è più alta per il Lecce ma lo avevamo già visto ma anche la precisione dei passaggi è più alta. Passaggi in altre quarti avversaria il Lecce quindi ne ha fatti di più con addirittura il 20% di precisione in più una cosa davvero aberrante tra l'altro passaggi verso altre quarti sempre abbastanza lunghi però la Juve anzi tornano ad essere molto lunghi in una delle recenti partite aveva superato la Juve quota 30 metri qui ci va vicino un po' meno del Lecce ma il Lecce è accettabile che faccia passaggi così lunghi verso la tre quarti la Juve un po' meno direi parecchio di meno passaggi in area anche qui andando sul totale la Juve quindi ne ha fatti di meno in percentuale chi passi ovvero passaggi per il tiro la Juve un 40% in più e direi che è il minimo e ci sta più filtranti però il Lecce per quanto riguarda i cross addirittura è il Lecce che ha crossato di più quasi con la stessa precisione della Juve ma dopo facciamo uno zoom sui cross che sono stati fatti da parte della Juventus attacchi di profondità 30% in più per anzi in realtà 50% in più per la Juventus anche prima in realtà un po' di più del 40% ritmo di gioco ecco vedete incredibile la Juve finalmente riesce ad avere più corpo cioè quasi 19 passaggi in media per minuto di possesso palla proprio il Lecce 16 ecco finalmente anche come lunghezza media dei passaggi meno dell'avversario però comunque la Juve si colloca sui 20 metri come lunghezza media dei passaggi in generale lo stesso del Lecce o quasi quanto il Lecce leggermente meno però insomma quando è che la Juve riuscirà a fare una media di passaggi a 16 metri probabilmente serviranno due o tre anni di lavoro di qualche altro allenatore andiamo appunto alla scansione temporale dei tiri quindi la Juventus chiude con 13 tiri totali di cui 3 nello specchio della porta vediamo tra l'altro che i tiri sono stati ecco 1,2,3,4,5 almeno 5 su 13 sono stati da fuori area gli altri da dentro l'area allora andiamo con tutta quanta la cronistoria Kostic tira fuori di sinistro all'ottavo minuto poi c'è il gol di Paredes su punizione che arriva praticamente in maniera estemporanea da lontano con barriera messa molto male poi c'è un tiro bloccato di Miretti nel frattempo c'era stato anche un tiro respinto di Miretti nel frattempo c'era stato anche il gol di Miretti annullato siamo ancora nel primo tempo quindi Miretti ancora non si è mangiato il gol lo farà più avanti e poi arriva subito dopo il gol di Vlaovic praticamente lo stesso minuto di sinistro bellissima azione su cross in realtà forse anche sbagliato di Kostic perché forse cercava due giocatori che invece erano andati sul primo palo il pallone comunque arriva a Vlaovic che fa un bel gol e chiudiamo il primo tempo con Danilo di testa dopo corner e con Miretti di destro che finisce con il pallone che finisce però ripeto Miretti se l'è mangiato nel secondo tempo comunque ci sono due tiri fuori da segnalare che magari hanno anche un loro significato un loro XG non male quindi la Juve nel primo tempo ha creato le occasioni nel secondo tempo per arrivare al primo tiro si deve arrivare al 49esimo al 49esimo con Miretti di sinistro che è proprio il gol mangiato di Miretti poi c'è Danilo di testa dopo corner che prende il palo quindi il palo infatti è segnalato proprio come palo palo di Danilo al 63esimo sì ma al 63esimo nel frattempo cosa è successo un quarto d'ora? nulla nulla nello stesso minuto poi c'è il tiro di Bremer di destro che finisce fuori dice 0-51 ma non mi ricordo fosse un'occasione particolarmente importante anzi poi concludiamo con Paredes fuori Paredes fuori Paredes fuori e infine Kostic che tira in porta da distanza infatti è un tiro con pochissime pretese quindi nel secondo tempo la Juventus ha attaccato poco e male se andiamo a vedere i tiri andando a vedere invece il Lecce ecco 11 tiri di cui 5 importa cioè quindi abbiamo detto la Juventus 13 di cui 3 importa il Lecce 11 di cui 5 importa la Juve ha meritato di vincere rivediamo anche tutta quanta la scansione temporale partiamo con Udin che tira di sinistro fuori poi c'è il gol di Sisay su rigore tra l'altro c'è stato anche il gol annullato a Sisay prima del rigore prima del 37esimo per fuori gioco evidente poi ancora di testa si sai dopo corner Baschirotto di sinistro e qui però andiamo già al 53esimo quindi c'è un vuoto nel frattempo nella timeline di occasioni qualcosa in realtà c'era stato anche prima un tiro respinto che qui non vedo non vedo indicato prima del tiro in porta forse si forse si accavallano forse perché sono esatto perché sono nello stesso minuto in realtà sono indicati sulla timeline solo che uno copre l'altro il tiro di Pezzella copre il tiro di Baschirotto quindi tiro in porta di Baschirotto Pezzella Murato ancora Sisay che tira fuori un TT fuori ma questo era poco era poco pericoloso poi Udin di sinistro Sisay al 79esimo e Baschirotto di testa ecco era lui che l'aveva colpito di testa con Scesni che ha fatto un miracolo qui al 79esimo questa è stata l'occasione forse migliore poi un tiro di Ceccaroni al 95esimo Murato per dire al 95esimo comunque ecco il tiro numero 11 anche se era da una certa distanza al 95esimo comunque Lecce tirava in porta o cercava il tiro verso la porta e quindi ha rischiato in qualche modo di pareggiare ma come soprattutto ha rischiato di pareggiare intorno al minuto 75-80 quindi in quei 5 minuti lì dove sono stati tutti questi tiri andiamo a questo punto alle pass map la prima è quella della Juventus non male non male come quantità di passaggi e distribuzione dei passaggi anche se prevalentemente parliamo di un gioco perimetrale tra i difensori e i quinti però il coinvolgimento di Paredes e direi di Fagioli diciamo che possiamo anche considerarlo come importante magari manca la catena offensiva anzi toglierei il magari manca la catena offensiva cioè manca la capacità di portare il pallone verso gli attaccanti dal centrocampo all'attacco lo vediamo con il numero di passaggi ecco il giocatore che ha ricevuto più passaggi è stato Bremer con 57 e poi Bonucci con 51 mentre quello che ha effettuato più passaggi riusciti è Bonucci con 61 e poi proprio Bremer con 60 al terzo posto Danilo con 57 e abbiamo la linea caldissima da Danilo a Kostic poi da Bonucci a Danilo poi da Bremer a Bonucci poi con 16 da Bonucci a Bremer per arrivare a trovare qualcosa di progressivo abbiamo da Bremer a Quadrato che però abbiamo visto è stato piuttosto basso e poi da Bremer a Fagioli appunto come segnalavo è da Fagioli a Bremer quindi anche con ritorno indietro guardando gli attaccanti Vlaovic sicuramente ha ricevuto molti palloni 27 di cui da Paredes solo 2 da Miretti solo 1 e da Fagioli solo 1 questo non bene 3 da Di Maria poi 1 anche da Pogba e 2 da Chiesa che sono entrati dopo mentre Di Maria ha ricevuto 26 quindi quasi lo stesso numero di Vlaovic come palloni però almeno 4 in più da Paredes e 4 in più 4 meglio non in più 4 da Paredes e 4 da Fagioli e 5 da Quadrato ma questo perché come sappiamo bene Di Maria si è abbassato e si abbassa sempre tantissimo a ricevere il pallone perché altrimenti si fa fatica a costruire la Pass Map del Lecce è più progressiva c'è meno giropalla perimetrale e arretrato ci sono più passaggi progressivi come abbiamo visto anche nei dati verso i centrocampisti anche verso gli attaccanti soprattutto sull'asse 97-22 che come andiamo a vedere corrisponde all'asse Pezzella-Bandà che infatti è proprio quella più calda con 14 passaggi riusciti poi abbiamo con 9 da Umtiti a Romagnoli e da Romagnoli a Umtiti e con 8 da Jullmand al numero 28 trattasi di anzi numero 28 trattasi di Udin e ancora sempre da Jullmand proprio a Bandà quindi un Lecce che comunque ha saputo impostare in maniera abbastanza progressiva andiamo a chiudere con recuperi e cross la Juventus ha recuperato il pallone come vedete quasi esclusivamente nella propria metà campo soprattutto nel secondo tempo questo ci dice tantissimo su dove ha giocato la Juve in particolare nel secondo tempo e come anche che tipo di aggressività ha sviluppato vediamo tra l'altro che il migliore per recuperi è stato Bonucci al secondo posto Paredes e poi Danilo e infine vediamo i cross la Juventus ha crossato abbiamo detto 15 volte di cui 6 con pallone che è arrivato al giocatore destinatario 40% su cross arriva il gol vittoria di Vlaovic però insomma la precisione è anche abbastanza alta però direi che forse sono anche troppi cross 15 onestamente cioè diventa praticamente la soluzione principale per arrivare al tiro tra l'altro se nel primo tempo si è crossato sia da destra che da sinistra nel secondo tempo inspiegabilmente si è crossato soltanto da sinistra quindi qualcosa è cambiato sarà stato l'ingresso in campo di Chiesa che ha spostato un po' le cose ma voglio dire o comunque o comunque la non lo so non so se non so se quello perché comunque ha giocato un quarto di partita oppure l'uscita di De Sciglia in realtà comunque De Sciglia è uscito è uscito già prima già dopo la mezz'ora quindi già nel primo tempo qualcosa doveva cambiare il fatto sta che questa è la mappa dei cross ci fermiamo qui allora per questo nuovo episodio di calcio con la M Juventus qualcosa di meglio abbiamo visto cosa qualcosa di uguale abbiamo visto cosa forse anche qualcosa di peggio abbiamo visto cosa ditemi la vostra nei commenti grazie per l'attenzione like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi anche sul mio secondo canale YouTube Avsim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio e ci vediamo molto presto grazie a tutti